Live sta proponendo ai cittadini villabatesi delle iniziative sulla prevenzione, sulla conoscenza della propria salute e su stili di vita sani. Questi incontri mirano a rendere i cittadini capaci anche di sapere quali sono i percorsi diagnostici e terapeutici per alcune patologie che possono essere benissimo prevenute e una volta che sono conosciute anche ben curate. Questo è l'obiettivo primario del Live, far sì che tutti i cittadini, in modo particolare lì dove noi operiamo a Villabate, possano conoscere quali sono le strategie diagnostiche e terapeutiche di tante patologie che possono essere benissimo curabili se prevenute e se riconosciute in tempo brevissimo. L'allergia è una malattia dal sistema immunitario che si caratterizza fondamentalmente per una risposta abnorme da parte dell'organismo nei confronti di sostanze che normalmente risulterebbero innocue. Naturalmente questo non riguarda tutti i soggetti ma solamente quelli che hanno una predisposizione genetica nel senso che lo hanno ereditato da uno dei genitori o da un familiare e poi da fattori ambientali che possono andare ad incidere come l'esposizione ad alcune sostanze come il pelo di animali o la polvere o pollini. Sono malattie molto diffuse che hanno un grosso impatto sociale anche come spesa economica coinvolgono una vasta popolazione caratterizzata prevalentemente da giovani e che per la maggior parte sono facilmente diagnosticabili. Ci sono anche buoni margini di terapia che può determinare o un abbattimento totale dell'allergia oppure un miglioramento della qualità della vita.